Vent'anni di guerra civile. Non c'è niente di civile. Adir è ben addestrato. Ha cerchiato, rapito, non importa. Ha portato il gas in Russia. Sì, ma con l'aiuto di Alcatada. Lui ha i contatti e le truppe. Tu lo piasimeresti? Non ufficialmente, no. Ma questo è più grande di Adir adesso. Ci sono due opzioni. O avvisiamo Mosca. O la madre russa assaggerà la sua medicina. No, morirebbero molti innocenti. A causa di una risorsa occidentale. Ok, ma adesso veniamo al sodo. I suggerimenti? Un viaggio d'affari. Non autorizzato. Fantasma. La squadra? Alcuni vecchi amici. E il sergente? È pronto. Vi farò entrare. Dopo sarete da soli. Soltanto armi del posto. Lascia fare a me. Bel panorama, Nicolai. Era la capitale prima di Mosca. Bei vecchi tempi. Ne ho due alla porta. Dentro ce ne sono altri. Beh, occhio. Bel posto. La parcheggiare fa schifo. Il macellaio maglia gialla. Quello dell'ambasciata. Niente gas. Niente Adir. Colpo facile. Che tentazione. No, aspettate. Ci porterà da Adir. O parte il gas. In quel caso saremmo tutti fregati. Prepariamoci. Forza. Manca poco. Di qua. Quanto abbiamo? Poche ore. Hai l'equipaggiamento. È il massimo che sono riuscito a fare. Silenziatori. Munizioni. Niente flashbang. Ben fatto, Nick. Calibro 30. Una 150. So che ti piace. Nascondila. Appuntamento al magazzino. Ok. Porta la merce. Subito, capitano. So che hai un conto in sospeso con il macellaio. Il mostro si merita la peggiore fine possibile. Avrai la tua occasione. Ma adesso il macellaio ci serve via. Privet. Priveto. Dobre iuta. Niente male. Non so dire altro. Sistemiamo le guardie affinché non diano l'allarme. Poi andiamo alla porta sul retro. Ok. Fuoco al mio segnale. E non prima. Calvati, calvati. Abbiamo i permessi. Calvati, adesso. Ottimo lavoro. Nicolai, spazzatura nel piccolo. Ho portato i sacchi. Pensi a tutto, tu. Mi raccomando. Il macellaio ci porterà da Adir. Per il momento ci serve vivo. Questa è una ritorzione. Oggi non saremo noi a soffrire, ma soltanto loro. Ringraziamo il nostro nuovo soldato. Giallo, dietro il tavolo. La sua determinazione è la causa. Il macellaio scappa. Libero. Libero. Seguilo. Forza, Garrick. Non devi perderlo. Non devono seguirci. Uccidetevi. Forza. Dietro il bancone. Ultimo giro, ragazzi. Non lasciarlo scappare. Atterra. La porta sulla strada. Il macellaio scappa. Civili. Atterra dove spari. Porca puttana. Lo sotterli. Lo sotterli. Dovai. Il mercato va verso sud. Stai caldo per l'innovazione. Il macellaio scappa. Civili. Atterra dove spari. Porca puttana. Il bersaglio va verso sud. Stai pronto per l'estrazione. Mi seguo. Come? Grazie ai colpi, ovviamente. di un'altra parte. Mi faccio in giro. Ricevuto. Stai ruoghi. Ci vai. Muoiono per colpa vostra. Sargente! Tutto ok! Bersaglio in movimento! Lungo il fiume! Sargente, il macellaio sul ponte! Contatto! Veicolo! Ad alto sinistro! Cazzo! Hanno un RPG! Falli fuori! RPG è lì! Gia libera! Adesso prendi il macellaio! Va presto! Vai in gioco! Là! Ho una reciccione! Nick sta passando per il bar! Lato del fiume, a sud! Dove sei tu? Arrivo, capitano! Arrivo! Arrivo! Tre a terra! Non perderlo di vista! Si dirige verso il fiume! Nicolai! Ce l'ha fatta! È difficile correre ferite, no? Ah, è solo un grazie, per cadere non è pura! Vedetemi che siete! Così manderemo le vostre teste alle vostre famiglie! Tocci, pezzo di mezza! Ah, problemino! Cosa? Il motore fa un po' le pizze! Ah, dagli due carini! Dobbiamo andare lì! Oppure di fuori! Oppure di fuori! ! Dai disorder! Questa, guarda! Vai far e consente! Allora! No, non, non! trabaje! Senta qui! Voi? Ne deviano clare! Ecco fatto! Fatto volendo! Dove si trova il gas? Superi il tuo buco del culo russo. Non mi fai niente, pezzo di merda! Avanti, capitano. Puoi fare di meglio. Pensi che non ricordi la tua faccia? S.A.S., eh? E la tua, sergente? Ehi, stupiola! Così questo bastardo! Dobbiamo spremere questo verme! È quello che faremo. Nicolai, dov'è la merce? Arriva, capitano. Bene. Vada, Nicolai. Prendi la merce, portala qui. Sergente Garrick. La merce è sul reto. Cos'è? Si ero della verità. Lasciateci andare! Merce di scambio. Non sappiamo niente! Per il negoziato. Forse il macellaio collaborerà? Mamma, che succede? Non fate del male a mio figlio. Faremo come di te. Maura, mamma. Non devi. Sei il bambino coraggioso della tua mamma. Dove ci portate? Dove andiamo, mamma? Dobbiamo parlare con delle persone. Poi... Quello che state facendo è imperdonabile! Noi siamo in... Voglio sapere perché siamo qui. Kyle, non sei obbligato. Ci stai? Ci sto. Bene. Portali dentro. No, no, mi prego! Usa! Amun! Papà! Per respirarli, figlio di puttana! Magniere forti? Eccole! Che cosa hai fatto? Tuo... Tuo figlio è qui! Tuo figlio! Lui non si fa problemi con i bambini, giusto? Già. Certo! Cosa hai fatto? Avevo detto di non coinvolgerci. Capitano, devo andare. Va pure. Prendila! Che cosa volete farci? Ehi, ehi, ehi! Ehi, no! No! Ehi, ehi, ehi! Ehi, guarda! Fermo! 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 Non c'entrano! Lasciali stare! Dillo al bambino della lasciata! Ok, ok, basta, mi prego! Vi prego! Fatevi andare! Sergente! Capitano! Lasciateli andare! Loro non sanno niente! Andiamo a Deer e il gas! Dove sono? Non avete più nessuna possibilità, ormai! Voi non cambierete proprio niente! Sì! Coraggio! Sparami! Dai, uccidimi! Uccidimi! Mi piace controllare tutto! Non permetterei mai a un sergente di maneggiare un'arma a carica al chiuso, se non serve! Bene! Allora, il gas! Ehi, ehi, ehi! No, lascialo! 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 Aspetta! Ti dirò tutto quanto! Caretka Theater! Ve lo giuro, sto dicendo la verità! Il gas è lì, Caretka Theater! Ve lo giuro! Dov'è, Adir? Il tizio nuovo? Troppo tardi per fermarlo! Va, sergente! Salvate i russi del cazzo! Il generale sarà morto! Adir vuole uccidere Barkov! Finito, un attimo! Il gas è al Caretka Theater! No! Mettila in sicurezza! Certo, l'auto è tutta vostra, vi porterà fuori città! A dire è da Barkov, lo ucciderà! E sarà guerra mondiale! Non se arriviamo prima! Garrick, sali e coprici! Ok!